La situazione dei lupi in Lessinia non è più sostenibile. A Camp Fontana in pochi mesi sono già stati predati oltre 40 capi. Un'intera stalla scompare in pochi mesi dalla Lessinia. La gente è esasperata, i lupi arrivano fino vicino alle case, i turisti scappano. Credo che sia il momento di fare un'ordinanza perché non si può permettere che la Lessinia venga distrutta in questo modo. C'è bisogno di un intervento di urgenza e credo che la Regione debba fare attraverso il suo Presidente un'ordinanza che garantisca prima di tutto la sicurezza ai cittadini e ai turisti e poi vengano tutelate le persone che lavorano in montagna e che producono in montagna. Se la montagna rimane senza allevamento, senza alpeggio, diventa una montagna morta, una montagna a rischio idrogeologico, una montagna che si spopola, è una perdita per tutta la collettività. Credo che oggi occorre mettere da parte le ideologie ambientaliste che portano solo alla distruzione della natura, ma ci vuole un equilibrio. Dobbiamo stabilire un numero sopportabile di lupi, non possono crescere in maniera indiscriminata, fare da padroni, devono convivere in un contesto fortemente antropizzato e quindi occorre limitare con la forza la presenza di questo predatore che non trova nessuno a poter contrastare la sua diffusione. Dobbiamo stabilire un numero sopportabile.